grande Mirko e mo? no vieni qua Luca no Tommy c'è un cazzo no c'è la f... Mirko non ti preoccupare te riprendi Luca e io tiro giù siediti Mirko Esposito si è chiesto di scendere dal muretto dopo aver recuperato il pallone dopo aver lanciato dopo averlo lanciato e averlo recuperato sono attenzione, due metri di dislivello e Mirko ha le vertigini vai, devo saltare è bene si ce l'ha fatta grandissimo schiaccio to